i cani mi sentono va bene oggi 25 febbraio 2024 ci troviamo al parco san leonardo qui sopra la ruba san leonardo questo è il belvedere guardate il punto panoramico però qua sarebbe opportune transennare perché non c'è protezione qualcuno può cadere sotto e morire specialmente chi non lo sa e guardiamo qui sotto il volo saranno i 15 metri di vuoto guardiamo qui adesso l'area circostante della ruta ecco qui la ruta anzi mi giro qui quella tra sacco vedete monte labrone tra sacco guardiamo tra sacco così più ingrandito l'area efficienza bella poco questo solo veramente spettacolare e magnifico ce l'hanno quest'area qui sotto questo è territorio comunque dei marzi qui sotto più sotto circa due chilometri comune tra sacco noi diciamo a campamonda qua e qui è pieno di terreni ognuno ha la sua casetta per trascorrere la piacevole vacanza fine settimana nei momenti liberi ecco comunque la marcia circa 4 chilometri e allora guardiamo qui l'area circostante della ruta qui bisogna stare attenti è pericoloso anche qui magari anche qui se qualcuno non è girata e stava giù guardate qui posso canino ginevra andiamo a qui piano piano procediamo a piano piano fino a dove sono salito asparagi selvatici ecco ecco ecco